Per quanto si legga o si senta raccontare, l'esperienza di un viaggio in India non si può trasmettere appieno, va vissuta direttamente, assaporata con tutti i sensi. Il monumento più famoso è il Taj Mahal di Agra, un sogno di marmo, un gesto d'amore eretto in memoria di una sposa amatissima. È da sempre considerata una delle notevoli bellezze architettoniche dell'India e del mondo, a tal punto che il complesso è tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e nel 2007 è stato anche inserito tra le sette meraviglie del mondo moderno. Posta nel sud dell'Asia, bagnata dal mare arabico e dal golfo del Bengala, l'India occupa un'area totale di 3.300.000 km2, appena più di un terzo degli Stati Uniti. La diversità del terreno varia dall'altopiano del Deccan nel sud alle pianure piatte e ondulanti lungo il Gange, dalle infinite spiagge di Goa e della costa meridionale agli atolli corallini e le acque interne del Kerala e poi i fiumi, i villaggi e le foreste tropicali. È l'imponente Himalaya, al nord, che tocca gli 8.598 metri. È il punto più alto dell'India. Himalaya, detta anche tetto del mondo, è una catena montuosa dell'Asia che separa India, a Pakistan, Nepal e Bhutan dalla Cina. In lingua sanscrita significa la dimora delle nevi eterne. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il Rajasthan, terra dei Marajah e dei regni principeschi situati al limite del deserto Tar, dove i cammelli lasciano le loro impronte sulla sabbia e dove menestrelli e cantastorie ancora girano di villaggio in villaggio raccontando le storie degli antichi splendori. In India convivono induismo, islamismo, buddhismo, la religione Sikh e il cristianesimo, senza contare altre religioni minori. Ogni giorno dell'anno in qualche località del paese si celebra un festival dedicato a qualcuno delle migliaia di dei, profeti e guru che le principali religioni dell'India adorano e venerano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'unicità dell'India deriva da tradizioni antiche e radicate che ne fanno tuttora la culla di pratiche sempre più apprezzate e diffuse, quali lo yoga, la naturopatia e la iorveda. La iorveda è un sistema di medicina alternativa basato sulla naturopatia e su diverse tipologie di massaggio. Lo yoga è un metodo di autodisciplina praticato dai seguaci della religione buddhista e di tutte le filosofie religiose indiane. Lo scopo è quello di controllare le forze psicofisiche e di congiungere l'anima con il principio originario, ovvero Dio. In un paese che vanta una storia e una civiltà nata 5.000 anni fa, le tradizioni, i monumenti, le architetture si nutrono del suo passato. Ogni età, ogni dominazione ha lasciato le sue tracce nei grandi monumenti dell'India, nei tranquilli monasteri buddhisti, nell'animazione dei templi induisti, nei luoghi di culto disseminati a migliaia in tutto il paese, nelle grandi testimonianze dell'era musulmana, nei suntuosi palazzi dei reni ngulz. Tra gli animali più splendidi alcuni sono in via di estinzione, come la tigre indiana, uno degli animali più belli al mondo, ma nello stesso tempo anche dei più vulnerabili. Grazie al progetto tigre nato 20 anni fa, molti parchi nazionali sono riusciti a preservarla. La belva è ancora lì, sorgnona e altera, a rappresentare l'animale nazionale della magnifica l'india.